Nuovo accordo con l'associazione di categoria delle farmacie convenzionate che ringrazio per una nuova campagna di screening senza precedenti. Sono tessi aerologici rapidi in farmacia per gli alunni di tutte le scuole di ordine grado, per i genitori, per i conviventi, familiari, per gli studenti universitari assistiti sul territorio. E poi l'implementazione della campagna di vaccinazione anti-influenzale, 850.000 dosi a disposizione lo scorso anno, quest'anno potremo arrivare a toccare circa 1.400.000 dosi, dandone una parte anche alle stesse farmacie. Dal 12 ottobre comincerà il vaccino anti-influenzale, dal 19 ottobre nelle farmacie sarà possibile svolgere il test sierologico per tutti il mondo della scuola, insegnanti, ragazzi, fino agli studenti universitari, genitori dei ragazzi da 0 ai 18 anni. E dal 26 ottobre avremo 2 milioni di tamponi rapidi per potenziare la nostra capacità di screening, sia per quello che riguarda le scuole, sia per quello che riguarda il mondo del lavoro pubblico e privato. Per quel che riguarda il test, verrà fatto su appuntamento, ci vorranno pochi minuti, entro 15 minuti. E in caso evidentemente di positività, la sanità pubblica prenderà in carico quel paziente per ovviamente gli accertamenti del caso, il tampone e ovviamente l'indagine epidemiologica. Per quello che riguarda il vaccino, abbiamo detto che abbiamo apprezzato sicuramente la volontà della regione di aumentare le dosi destinate alle farmacie. C'è ancora qualche criticità sui tempi, ma che contiamo possa essere superata con la buona volontà di tutti. E abbiamo dato la disponibilità a distribuire con meccanismi che conosciamo già, tipo la distribuzione per conto, anche quelle dosi che dovessero essere magari non utilizzate dalla regione o anche da altre regioni, come è stato evidenziato dall'assessore Donini.